Quindi il narratore sposta il focus della storia su Monza, su Egidio Egidio appena riceve informazioni su questo incarico accetta subito anche lui perché sa bene che la presenza di Gertrude all'interno del convento lo può rendere assolutamente semplice, qua vabbè una piccola digressione su Gertrude sostanzialmente è l'ultima volta che la vediamo, poi ci verrà detto qualcosa sul suo destino però l'ultima volta che la vediamo in presa diretta il narratore torna un attimo indietro e ricorda La sciagurata signora, ricorderete come desse una volta retta le sue parole a quelle di Egidio la famosa frase, la sventurata rispose e appunto il lettore può aver inteso che quella volta non fu l'ultima non fu che un primo passo in una strada di abominazione e di sangue quindi sappiamo anche dei promessi sposi che si allude all'omicidio di una suora cosa che invece nel Fermo Eloccia era descritta addirittura in modo ancora più netto quindi nel momento in cui quella stessa voce a Gertrude, cioè quella di Egidio le impose il sacrificio dell'innocente che aveva in custodia la proposta ovviamente riuscì spaventosa a Gertrude perché Gertrude si è affezionata a Lucia e essenzialmente era un po' il suo modo di espiare le sue colpe aiutare Lucia, adesso invece tutto è ribaltato e deve obbedire è definita ancora la sventurata quindi è sempre sventurata Gertrude è un po' quasi comandata da questo destino crudele che incombe su di lei un po' travolta dagli eventi anche se ovviamente ha la sua responsabilità individuale nei suoi atti, nei suoi peccati e alla fine però non può dire di no ad Egidio e obbedì quindi è l'ultimo giorno, sa bene cosa sta per andare incontro Lucia le fa più carezze dell'ordinario quasi un po' come, c'è questa similitudine un po' come fa il pastore che accarezza la pecora la coccola senza sapere ovviamente la pecora che lì fuori c'è il macellaio pronto a macellarla e la stessa cosa quindi è detto di Gertrude e di Lucia cos'è che si inventa? che ha bisogno di un affare di grande importanza deve andare a chiamare Lucia quindi deve uscire un attimo dal monastero sarebbe questo l'incarico per andare a chiamare il padre guardiano dei cappuccini quindi è un affare un po' segreto nessuno deve saperlo e chiede aiuto a Lucia Lucia fu atterrita, cioè spaventata da una tale richiesta dusse subito per disimpegnarsene le ragioni che la suora doveva intendere quindi senza la madre, senza nessuno per una strada solitaria in un paese sconosciuto Lucia, sappiamo, è un personaggio timoroso poi vedremo che ha comunque una sua forza però nelle cose più pratiche e ordinarie è subito intimorita in realtà non è che debba fare granché deve fare pochi centinaia di metri di giorno nella città di Monza senza sapere ovviamente che c'è un tranello un inganno preparato quindi di per sé però è subito atterrita Gertrude però insiste e alla fine quindi la convince alla fine la poverina commossa si lasciò sfuggire di bocca va bene, cosa devo fare? addirittura Gertrude le dice vabbè se ti ferma qualcuno la fattoressa cioè la specie di portinaia insomma nel monastero non fai finta di niente di che devi andare in chiesa a fare un'orazione Lucia è ancora più intimorita perché l'idea solo di mentire sarebbe una bugia banale però intimorita anche da questo alla fine comunque è convinta quindi nella mente sciagurata di Gertrude ormai Gertrude è un po' scioccata da quello che sta facendo però è come fosse manipolata insomma da Egidio e quindi alla fine Lucia esce esce dal chiostro tutta raccolta è un po' tremante quindi il personaggio ormai lo conosciamo è sempre spaventato lì vicino c'è una carrozza da viaggio ferma la fermano per chiedere qual è la strada per Monza lei è un po' stupita comunque risponde alle domande di questi uomini ma ovviamente è un inganno alla fine l'altro quindi appena Lucia si volta per indicare diciamo la strada l'altro compagno che era al Libio la ferra d'improvviso per la vita l'alza da terra Lucia caccia urlo ma viene diciamo tirata dentro nella carrozza le mettono un fazzoletto sulla bocca per cercare di farla stare buona il narratore dice insomma chi è che potrebbe descrivere il terrore e l'angoscia di Costei esprimere ciò che passava nel suo animo spalancava gli occhi spaventati e subito li riapriva quindi un po' scioccata Lucia non sa se aprire gli occhi si chiuderle cerca di liberarsi raccoglie le sue forze cerca di dare delle strattonate ma le braccia nerborute cioè muscolose la tenevano ferma cercano di farla star buona zitta zitta non abbiate paura non vogliamo farvi male sembra acquettarsi un po' però appena vede gli orridi visacci che le stavano davanti alla fine perde i sensi quindi si abbandonò e svenne i bravi sono un po' scioccati perché Nibbio insomma uno dei bravi dice ma non è che non è che è morta Nibbio dice ma no figuratevi però cerca di tenerli buoni dice guardate bene di non farle paura appena si risveglierà insomma dopo qualche minuto Lucia riapre gli occhi ovviamente cerca di buttarsi ancora verso lo sportello ma viene trattenuto i bravi Nibbio in particolare continuano a cercare di carmarla le disse più dolcemente che potè un po' una tattica un po' vedremo che viene detto dopo il Nibbio viene sinceramente un po' colpito da Lucia quindi si intenerisce un po' a questo personaggio state zitta sarà meglio per voi non vi vogliamo fare del mare non vedete che avremmo potuto ammazzarvi cento volte quindi se volessimo ammazzarti l'avremmo già fatto lei continua ovviamente a chiedere ma perché mi avete preso perché c'è stato comandato ma non ottiene ulteriori informazioni cosa fa? si abbandona alla preghiera è proprio il tipico personaggio manzoniano Lucia quindi questo abbandonarsi comunque anche nelle avversità più grandi a Dio quindi avere fiducia in Dio quindi si abbandona alle preghiere prega Dio la Vergine e addirittura dice ai suoi rapitori quello che mi avete fatto ve lo perdono di cuore pregherò a Dio per voi perché un giorno desidererete che Dio vi usi misericordia anche se voi avesse una figlia una moglie una madre pensate a quello che patirebbero in questo stato quindi un po' cercare di commuoverli un po' di pietosirli sempre con questo sentimento religioso e alla fine quindi accorata affannata atterrita questi tre aggettivi in climax che ci indicano appunto lo stato di Lucia alla fine si rivolse a colui che tiene in mano il cuore degli uomini quindi prega un po' poi prega anche con il rosario il viaggio dura quattro ore adesso ci vuole un'ora più o meno in auto da per collegare i due luoghi al tempo ovviamente con la carrozza circa quattro ore